Chivasso, hanno tentato di rubare del gasolio da una centralina Eni, ma sono stati disturbati da un contadino, è accaduto ieri in aperta campagna in località Torassi di Chivasso, sono scappati via in tutta fretta attraverso i campi, ma hanno lasciato la pompa sganciata e il gasolio è fuoriuscito nel campo di Fieno rischiando un disastro ambientale, sono intervenuti sull'iposto i vigili del fuoco e l'arta, sulla vicenda indagano i carabinieri di Chivasso.